Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video oggi voglio farvi vedere come realizzare questa nail art sfumata davvero bellissima, fine e molto molto elegante l'ho vista praticamente su ogni social e sono uscita completamente fuori di testa per questa nail art perché mi piace davvero moltissimo dà senz'altro il suo bellissimo effetto e appunto ho deciso di realizzarlo anch'io e fare direttamente il tutorial prendiamo lo smalto rosa cipria e lo stendiamo su tutte le unghie io sto utilizzando questo di Debbie Gel Play che è del numero 34 fate asciugare per bene lo smalto rosa prendiamo due pezzi di scotch e li avvolgiamo intorno all'unghia prendiamo poi una spugnettina io sto utilizzando un pezzetto di spugnetta comunissima per lavare i piatti e vado a stenderci sopra lo smalto rosa e lo smalto bianco vado così poi a tamponare sopra l'unghia in modo appunto da far aderire bene il colore su tutta la mia unghia faccio questo procedimento per tutte le volte necessarie affinché il colore aderisca perfettamente sulla mia unghia dopodiché rimuovo lo scotch e con un cotton fioc imbevuto dissolvente vado a rimuovere lo smalto che si è depositato sulla mia pelle infine quando la mia nail art sarà perfettamente asciutta prendo il top coat io sto utilizzando questo dell'essence e lo stendo bene su tutta l'unghia bene ragazzi il mio tutorial finisce qui spero da tanto che questa nail art vi sia piaciuta e vi aspetta al prossimo video ciao ragazzi un bacione ciao ciao ciao